Negli ultimi 5 giorni ho dedicato gran parte del tempo per fare una ricerca di mercato completa. Non portavo un video del genere da tanto tempo, ma nel video di oggi ti mostro i top 10 prodotti da vendere in questo esatto momento e ti faccio vedere anche gli store dei competitor, le ads, ti do delle indicazioni sulle vendite che stanno facendo e ovviamente ti do anche i consigli sui prodotti e come li gestirei io direttamente. Quindi ho un po' di cose da farti vedere e ti rivelo tutto all'interno del video di oggi. Ciao, sono Samuele e benvenuto in questo nuovissimo video. Se non mi conosci, io sono il fondatore di DropshippingKids.com dove aiuto le persone come te a partire totalmente da zero, creare uno store dropshipping e portarlo alle fasi più avanzate. Nel video di oggi, come ti dicevo, ti faccio vedere 10 prodotti vincenti, prodotti ad altissimo potenziale. Alcuni di questi sono delle nicchie che io stesso sono andato già a testare ovviamente, modalità di prodotti che già ho visto funzionare. Molti di questi infatti li ho analizzati per qualche giorno per vedere le effettive vendite. Quindi quello che ti mostro è veramente qualcosa di attivo al 100% che puoi andare a sfruttare tu stesso. Vi faccio vedere un sacco di nicchie diverse, quindi anche se hai un budget ridotto troverai qualcosa di interessante da poter vendere. E ti ricordo che quando arriviamo a 500 mi piace a questo video, qui sotto nei commenti ti metterò fissato il link con un documento dei prodotti in modo che potrai scaricarlo, guardartelo e trovare ulteriore materiale per vendere uno di questi. Adesso non ti voglio far perdere altro tempo perché ci sono un po' di cose da farti vedere e quindi iniziamo subito col primo prodotto di questa lista. Ok, il primo prodotto della lista che vi faccio vedere oggi è un prodotto ad altissimo potenziale, si tratta di questa crossbody bag. Ve la faccio vedere qui da Aliexpress, premessa di questo video vi faccio vedere tutti i prodotti da Aliexpress, ma ricordatevi che poi ovviamente ci sono soluzioni molto migliori. Ve l'ho già mostrata all'interno del mio canale, quindi agenti, piattaforme diverse. Per pura comodità vi faccio vedere Aliexpress. Partiamo dal presupposto che questa è una tipologia di nicchia, come vedete, in estrema crescita dal 2004 ad oggi e soprattutto uno di quei prodotti di cui versioni differenti anche alcuni ragazzi hanno già venduto nel passato con ottimi risultati. Quindi questo può significare che insomma quando c'è un qualcosa di nuovo, una nuova versione, può dare ovviamente degli ottimi riscontri. Ha maggior ragione questo prodotto perché dallo store che state vedendo, questo è uno store che vende a tutti gli effetti. È uno store infatti che fa diverse centinaia di dollari quasi ogni ora, comunque vende veramente tanto e oggettivamente questo è un prodotto particolare, specifico fatto per il target maschile, dove possiamo effettivamente anche qua farci un bel lavoro di branding nel lungo termine. Infatti un'ulteriore cosa è la sponsorizzata stessa fa vedere proprio nello specifico un uomo con questa bag sia anti-shippo, diciamo, per sicurezza e sia di pura comodità. Un sacco di feature, cosa altamente positiva e soprattutto tante interazioni. Quindi questo è un contenuto che ha 10.000 like sulla sponsorizzata stessa con diversi commenti anche all'interno della promo effettiva. Quindi anche tanti commenti di pura interazione, simpatici ma senza insulti, per andare ovviamente a gustare anche il contenuto stesso. Prodotto veramente figo che ho trovato come diversi prodotti appunto di questo contenuto su Minea. Quindi la cosa che dovete sapere è che i prodotti che vi faccio vedere c'è qualcuno che li sta vendendo, qualcuno che li sta sponsorizzando da tempo con degli ottimi riscontri e soprattutto un andamento positivo di quelle che sono appunto l'andamento delle interazioni. Come primo prodotto questo è già forse uno dei miei preferiti della lista anche perché lo store non è uno store generale fatto tanto per testare ma è uno store dove effettivamente c'è una costruzione fatta come si deve. Passiamo subito al secondo prodotto, questo va nello specifico invece sul target femminile quindi siamo quasi all'opposto e sarebbe questo massaggiatore per il corpo nello specifico è uno scalp massager quindi per la testa. Infatti anche qui ulteriore store che fa delle vendite costanti e come puoi vedere anche questo brandizzato. Infatti come puoi vedere quello che è appunto lo store stesso è fatto veramente molto molto bene ci sono questi contenuti UGC, contenuto UGC vuol dire user generated content dove c'è una persona che usa fisicamente appunto questo prodotto e come puoi vedere anche qua lo store è gestito oggettivamente molto molto bene. È un prodotto che risolve un problema, è un prodotto che si può lavorare e gestire molto bene anche con influencer quindi con una strategia iniziale a basso costo. Il prezzo infatti è di questi 19 euro, potenzialmente anche qui da qualche agente magari l'ho trovato a un prezzo minore, 16-18, il che è venduto a 39, 49 o 59 come pricing. Insomma comunque secondo me ci sta perché è un prodotto che si vede già un po' più solido. E poi anche qui se lo cerchiamo su TikTok ci sono tanti contenuti versioni differenti utilizzate e fatte per vari contenuti. Qui se sei una ragazza oppure se puoi utilizzare un'amica, una sorella, una ragazza appunto per fare dei contenuti secondo me è veramente la svolta per creare un brand simile a questo che sta spingendo molto negli Stati Uniti però con un target italiano dove oggettivamente questo prodotto non l'ho ancora visto girare. Aggiungiamoci anche che in questo esatto momento scalp massager come ricerca generale è in estremo trend, è stata una cosa che già è sempre stata un minimo richiesta quindi c'è sempre stato più o meno movimento diciamo standard per poi avere i primi picchi 2017, qui c'è stato uno a 2021 e poi adesso ne abbiamo uno da dicembre con questo piccolo rimbalzo qua alla fine che ci può dare un ottimo riscontro per lanciarlo in questo momento. Invece adesso parliamo di un altro prodotto su cui possiamo creare un branding veramente molto forte. L'ho trovato da questo che è un marchio vero e proprio, il prodotto si chiama Carpio 2.0 e praticamente è una soluzione per chi lavora al computer quindi qua si può andare su due target molto diversi sia il target della nicchia gaming sia eventualmente persone che lavorano da casa. Diciamo che questo è un prodotto secondo me neato che ha avuto un picco da lì in poi dopo tutto lo spostamento dal lockdown al lavoro da casa dove molte persone tuttora lo fanno e questa è una soluzione per lavorare bene e per mantenere una corretta postura quando lavoriamo al computer. L'ho trovato infatti da questo che è un brand che nuovamente spinge veramente tanto l'ha sponsorizzata nello specifico su Facebook infatti ha circa 6.000 like e come vedete è anche molto molto semplice come prodotto però quando risolve un problema, quando un accessorino a basso costo e nel momento in cui andiamo a lavorare molto sul discorso branding può dare veramente ottimi risultati. Infatti ne ho trovata una versione diversa però generalmente dello stesso prodotto qui quindi su Aliexpress come vedi ha un costo molto molto minore quindi possiamo venderlo addirittura a un 29,99 magari rimanendo sotto il prezzo del competitor principale offrendo però una soluzione con un branding magari che possiamo fare simile e poi soprattutto su questo store avevo trovato anche versioni 3.0 versioni diverse dove possiamo eventualmente fare il lavoro anche noi con questo diciamo con un supporto no aggiuntivo quindi c'è veramente tanto da fare e qui soprattutto ti consiglio di entrare nell'ottica che quando vedi qualcosa di molto semplice magari oggi dici ok non ha un effetto wow pazzesco non lo vado a vendere che ci può stare però ricordati che allo stesso tempo ci sono prodotti molto semplici che risolvono dei problemi che le persone non conoscono che possono darti un ottimo riscontro e poi soprattutto per aggiungere un po' di lato branding a quello che è il tuo prodotto potresti utilizzare CJ Dropshipping dove se non lo sai su CJ si può andare a aggiungere un packaging personalizzato a quello che è il tuo prodotto quindi quello che puoi fare è trovo il prodotto magari lo prendo tramite CJ e come vedi qui ci sono un sacco di versioni diverse che puoi utilizzare di questo packaging personalizzi la scatola la paghi qualche dollaro cosa che sì ti fa aumentare il costo del prodotto però in realtà aumenta un sacco anche il valore percepito e quindi le potenziali performance nella vendita ok ti faccio questa piccola interruzione per ricordarti che se sei interessato a partire con uno store dropshipping in questo esatto momento trovi qui sotto in descrizione dropshipping keys 3.0 questo è il mio corso completo dove all'interno trovi più di 170 lezioni gruppo privato di supporto e dirette settimanali e Q&A e coaching più un sacco di materiale e sappi che da pochissimo ho aggiornato il corso quindi troverai un bel po' di contenuti aggiuntivi che puoi approfondire quindi materiale tutto aggiornato ad oggi con delle lezioni anche molto avanzate quindi trovi tutto nel link in descrizione e adesso ti lascio al continuo del video adesso ti faccio vedere invece un prodotto ottimale anche qui per il discorso influencer e anche per una vendita a basso costo e si tratta di questo questo prodotto qui serve appunto per disegnare sopracciglia e anche capelli o barba per gli uomini in modo realistico infatti lo chiama 4D Airbrush diciamo e è un prodotto che ti dico può dare ottimi riscontri molto semplice molto standard ma abbiamo già visto nel passato dei prodotti fatti simile per la nicchia però uomo quindi per la barba che sono andati altrettanto bene soprattutto è uno di quegli accessori che comunque le persone vedono dicono ok mi serve è un tool in più lo vado ad acquistare costa molto poco quindi anche qua possiamo gestirla volendo anche in organico sempre andando magari a fare dei contenuti di esempio e il competitor principale lo sta vendendo con 10.000 mi piace quindi anche qua cerco di farti vedere questo perché è ok che vende in un mercato diverso dal nostro ma la cosa è positiva perché comunque è un prodotto generale che bene o male tutti in tutti i mercati possono utilizzare e quindi quando si tratta di avere prodotti del genere dove sono stati comunque convalidati dai commenti anche molto effettivamente positivi questo insomma è un prodotto che può avere un ottimo risconto trovato anche questo su Minea quindi nuovamente siamo su un discorso che quello che lo sta vendendo ha effettivamente dei risultati è un accessorio carino probabilmente potenzialmente ha senso andare ad affiancarlo a qualcos'altro quindi creare magari dei bundle per esempio una cosa interessante può essere creare dei bundle specifici di due o tre pezzi con magari delle colorazioni diverse così da aumentare il valore percepito e riuscire a venderlo in blocco adesso ti faccio vedere invece uno di quei prodotti di questa lista che preferisco come appunto il primo questo è un altro prodotto su cui si può fare veramente un lavoro massivo è un prodotto che già conosco avevo già visto nel passato ma non te l'ho mai proposto più che altro perché l'ho sempre visto girare però poi non l'ho mai approfondito granché invece questa volta sono stato dietro un po' a questo store l'ho verificato per un po' di tempo e ti dico può avere un altissimo impatto innanzitutto l'ho visto diverse volte su Stati Uniti o comunque nell'ad in lingua inglese ma in Italia non mi è mai capitato di vedere nessun competitor provare a venderlo e inoltre è veramente particolare cosa succede quando il cliente infatti clicca dalla sponsorizzata nella pagina prima il competitor va a chiedere per chi lo compri per te o per un bambino perché effettivamente praticamente che cosa serve è un giocattolo tra virgolette che ogni volta che suoni con su questo tamburo fa un suono appunto diverso però viene venduto ad un target tipo meditazione calma, tranquillità, cose del genere per entrare in uno stato ripeto di calma quindi anche andare ad alleviare ansia, stress e quant'altro veramente super particolare infatti anche la sponsorizzata è gestita in questo modo c'è il bambino e si sentono questi suoni sponsorizzata che ha 11.000 like siamo di nuovo qui commenti super positivi quindi abbiamo worth every penny quindi ne vale ogni centesimo e ci sono tanti commenti di questo tipo soprattutto perché è un prodotto ripeto che funziona pochi lo stanno vendendo soprattutto in Italia ma è una cosa che può avere secondo me un altissimo impatto su Aliexpress anche qui ovviamente si trova si trova anche con diverse tipologie diverse modalità di colorazione qui infatti offrono anche diverse dimensioni non costa così poco perché infatti appunto in dollari costa circa una sessantina la versione ridotta però ripeto quando si va a costruire un branding molto forte e specifico si può anche vendere chiaramente a questi prezzi sapendo anche che ci sono delle versioni che comunque costano molto molto meno se vai a fare un po' di ricerca troverai delle versioni mini che magari costano 10-15 euro e che quindi puoi vendere di conseguenza prodotto ripeto super interessante se vuoi investire nella creazione di un brand come si deve investire relativamente perché all'inizio testerai sempre in drop questa può essere un qualcosa da tenere oggi zero competizione e scalare come si deve anche nel futuro ora come sempre non poteva mancare la nicchia animali domestici infatti ti faccio vedere un bellissimo prodotto questo io lo conosco già da almeno un paio d'anni ma ti dico è uscito anche in Italia un paio di anni fa e poi non l'ho mai più visto non so il motivo ma il fatto è che l'ho ritrovato da poco letteralmente negli ultimi 24-48 ore con questa sponsorizzata che lo vende tuttora e qui la cosa che mi veniva in mente è dire ok non so se posso venderlo anche adesso perché si va verso i periodi più caldi e quindi magari viene un po' più ignorato in realtà le cose che ho notato sono due innanzitutto che anche da altre sponsorizzate che ho visto viene venduto a volte con un tipo di comunicazione tipo fresco nel senso lo metti magari in un'area comunque fresca il gatto alla fine ci entra e ci sta all'interno oppure sopra e poi soprattutto anche per il fatto che alla fine collegandoci a questa cosa insomma magari i gatti comunque hanno questo prodotto in giro bene o male ci vanno comunque e poi nel momento in cui ci entrano c'è questo effetto wow altissimo per i padroni che ti porta a dire ok carino lo voglio perché effettivamente è ricreato proprio come un letto vero e proprio il prezzo a cui lo vendono è 24 dollari mentre su Aliexpress si trova ad un prezzo molto molto buono tra i 10-14 circa poi anche qua bisogna vedere però questo per dire che secondo me venduto tra i 25 e i 30 è un prezzo assolutamente gestibile in aggiunta a tutto ciò come sempre ti faccio vedere la sponsorizzata anche qui quasi 12.000 like quindi sto cercando di farti vedere tutti i prodotti che spingono parecchio cioè hanno tante interazioni sono ad attive in questo momento e che stanno generando risultati di nuovo anche qui nei commenti abbiamo un sacco di feedback positivi quindi nel momento in cui vuoi creare uno store solido che può durare nei mesi e negli anni a venire se fai un bel lavoro la nicchia pets animali domestici è una di quelle dove quando trovi un prodotto nuovo e particolare può darti veramente grandi soddisfazioni come per la nicchia animali domestici non può mancare anche un altro prodotto per la nicchia giocattoli specifico quindi nicchia baby care questo è infatti un accessorio per la nicchia giocattoli che va anche un po' sul discorso giocattoli educativi come sai sono un fan tra virgolette di questa nicchia te l'ho consigliata altre volte perché oggettivamente è molto forte usare la tattica di comunicazione tipo il tuo bambino con queste cose diventa più intelligente oppure regalali qualcosa di effettivamente sensato può dare ottimi riscontri e qui abbiamo un altro feedback un altro aspetto insomma positivo che è il fatto di vendere in costanza con costanza nel tempo questo prodotto infatti il senso del prodotto di base è che questo è un giocattolo dove i bambini vanno a costruire insomma la pista e poi essendo snodato può fare tutti i giri la macchinina addirittura va sotto sopra quindi l'effetto wow è altissimo ma la cosa interessante è questa dopo che abbiamo convertito un cliente con un prodotto completo possiamo andare a vendere i pezzi di ricambio in aggiunta quindi immaginati anche magari creare un piano di abbonamento dove tu ai clienti gli dici compri il pacchetto base poi compri magari l'estensione che ti mandiamo a casa ogni mese questa che costa 8 euro magari la vendi anche solo a 15 ti fai un piccolo margine sapendo però che lì il costo di acquisizione è zero quindi magari un cliente te lo tieni per un anno e lo vai a riconvertire quindi veramente all'infinito accessorio molto interessante ti faccio vedere anche uno store che lo sta vendendo e che è attivo in questo esatto momento lo vendono a 50 dollari quindi ci stiamo tranquillamente e poi come vedi puoi fare i pack anche appunto più grandi quindi dipendentemente da quanti pezzi ci sono all'interno ovviamente il costo va a essere maggiore effetto wow ci siamo risoluzione di un problema direi di sì col discorso educativo che ti dicevo prima quindi strutturare anche qui un qualcosa a lungo termine su educa il tuo bambino come si deve potrebbe essere un qualcosa di fattibile e interessante ora questo genere di prodotti che ti faccio vedere io anche qua sono un fan di questa nicchia ma più che essere fan sono prodotti che mi capita di testare spesso e soprattutto quando lo faccio vedo degli ottimi riscontri mi è capitato infatti lo scorso anno di prendere un prodotto di questo tipo un copridivano e andare a spingerlo nel mercato italiano tra l'altro con ottimi risultati qui ti faccio vedere questa nuova versione il discorso è che questo tipo di nicchia cosa che ti spiegavo in un altro video devi guardarla in questo modo quindi dire ok questo è un prodotto normale un copridivano banale e semplice sì vero però ha un design particolare quando trovi prodotti del genere ecco quello è un ottimo feedback perché il concetto qual è? che tu vendi un qualcosa che le persone comunque devono comprare se però gli dai un qualcosa che si trova raramente in giro o non si trova come design come per esempio questo lì ecco che c'è un motivo in più per cui il cliente deve comprare quindi vendere cose semplici con un design particolare è una mossa molto intelligente questo è un copridivano infatti che ho trovato da uno store lo vende nello specifico nel mercato francese e come puoi vedere anche qui si possono creare bei bundle perché comunque gli andiamo ad offrire magari dimensioni diverse copricuscino, copriletto poi magari uno si trova bene quindi compra appunto più versioni come vedi qui infatti l'effetto visivo del prodotto è proprio super interessante nel senso che è oggettivamente bello da vedere e ci sono anche tanti contenuti capita che quando vendi appunto un copridivano un prodotto standard magari non trovi materiale trovi solo poche foto invece qui come puoi vedere ci sono anche bei contenuti per creare una pagina prodotto completa qui ci sono anche queste due gif che insomma effettivamente è un prodotto che dici ok ha senso che lo compro perché è il design altrimenti non lo trovo in giro stessa cosa anche qua siamo in giro da un mese e mezzo circa come prodotto ecco anche questa feature che hai visto adesso che praticamente si va a attaccare li fa vedere il telefono però che si inchioda bene al divano 3000 mi piace anche qui feedback positivi quindi come vedi mercato francese cosa che possiamo tranquillamente riportare nel mercato italiano quello che ti faccio vedere adesso come penultimo prodotto invece è qualcosa che ti consiglio di sfruttare se riesci se sei uno dei primi che ci arriva perché potrebbe darti dei grandissimi riscontri può essere che l'hai già visto girare l'anno scorso infatti questa sponsorizzata del 18 maggio 2022 è attiva tuttora sta facendo risultati a quasi 70.000 mi piace che sono veramente tanti è un prodotto infatti questo un ventilatore praticamente con diverse feature che puoi ricaricare che puoi alzare abbassare appunto come grandezza costa infatti in vendita 70 dollari lo troviamo su Aliexpress circa sui 27-29 ovviamente come ti dicevo all'inizio sui fornitori bisogna fare un lavoro di ricerca trovare qualcosa che abbia un costo minore trovare qualcuno che te li spedisca velocemente te lo faccio vedere solo per info per farti capire che questo prodotto si trova ti dico qualcosa per l'estate ma anche se riesci ad arrivare adesso comunque è un prodotto che ripeto vende a tutti gli effetti ha venduto per tutto l'anno scorso se lo vendi adesso marzo, aprile, primavera e poi tutta l'estate è un qualcosa che può dare degli ottimi riscontri alla fine a tante feature serve perché serve per forza per appunto il periodo in arrivo e poi ripeto un qualcosa che ogni anno comunque funziona ci sono vari ventilatori più grandi più piccoli che poi escono nel tempo ma questo è un prodotto winner come al solito ricordati che il mio obiettivo in questi video è darti modo di vedere dei prodotti che vendono a tutti gli effetti così oltre a prendere spunto e vendere qualcosa di questi potresti anche capire a tutti gli effetti cos'è e come è fatto effettivamente un prodotto che vende per migliaia e migliaia di dollari ogni giorno e l'ultimo prodotto della lista di oggi te lo faccio vedere più che altro come bonus perché è un prodotto che può avere dei riscontri pazzeschi nel momento in cui lo vai a gestire come si deve ma allo stesso tempo è più che altro consigliato per una fase magari avanzata infatti si tratta di questa luce che ho trovato veramente da pochissimo tempo e praticamente come funziona adesso ti faccio vedere anche un po' nel video è questa luce che tu vai a accendere e spegnere semplicemente ruotando e grazie appunto a questa funzione interna non so bene la tecnologia con cui insomma sia fatta resta il fatto che è veramente molto molto interessante anche qui l'ho trovata con uno store che la sta vendendo a tutti gli effetti qui a quanto ho capito c'è anche un controllo fatto da applicazione però come puoi vedere l'effetto è altissimo praticamente vai a spegnere tutte le luci poi queste luci qua si collegano tra di loro e quindi mentre giri, ruoti insomma la lampada stessa si vanno ad accendere tutte e puoi controllare quella che è la luminosità gli store di illuminazione per interni e per esterni sono un qualcosa che io consiglio spesso più che altro perché già per il fatto che sia una luce c'è un effetto wow se poi fai vedere queste gif come questa che secondo me è pazzesca come effetto wow allora vedi che è ancora di più un prodotto che risulta interessante poi oggettivamente ripeto il prezzo è medio alto perché bisogna sfruttarla più sulla costruzione di un brand quindi fare un lavoro fatto come si deve a lungo termine ma allo stesso tempo un prodotto che per ora non avevo mai visto non conoscevo ed è nuovissimo quindi se hai voglia anche qui di investire del tempo costruire uno store come si deve fare un bel lavoro anche probabilmente sui social in organico testare magari low budget questo potrebbe essere un bel prodotto che puoi approfondire ok quindi questo era tutto come hai visto ti ho mostrato 10 prodotti di diverse nicchie, di diverse tipologie alcuni prodotti con un pricing più o meno alto alcuni per social più o meno insomma diversi facebook, instagram, tiktok quindi c'è veramente tutto ho investito appunto come ti dicevo questo tempo per cercare qualcosa che anch'io direttamente andrei a vendere quindi mi raccomando se guardi questi prodotti non pensare come sempre ok però se li ha mostrati ora tutti li vanno a vendere perché molti fanno questa considerazione e quindi poi magari nessuno vende questi prodotti quando già nel passato abbiamo visto persone prenderli e farci dei risultati io ti ringrazio della visione di questo video ti invito a lasciarmi un bel mi piace iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo video